Al giro di Bode il campionato il Mori ospita la terza forza del torneo, il Belluno, che al ventiduesimo passa in vantaggio sul colpo di testa di Masoc. Cinque minuti dopo Dinka prova i riflessi di Poli, palla in corner. Al quarantesimo Dei Michei ha l'occasione giusta sui piedi ma la palla finisce fuori. Poco dopo arriva il raddoppio bellunese sul clamoroso errore difensivo dei padroni di casa che lasciano Bertagno libero di colpire in area. Ad inizio ripresa il match si riapre, Dei Michei viene atterrato in area e Tisi dagli undici metri accorcia le distanze. Il Belluno cala fisicamente e al trentaseiesimo subisce la rete del pareggio. corner di Tisi sul primo palo, Dei Michei svetta su tutti e insacca la palla del definitivo 2 a 2.